Nonostante gli inviti alla cautela nell'iniziare relazioni online da parte delle forze dell'ordine, questa storia che si intreccia tra il Piemonte ed il Salento somiglia a tante altre, così tante da essere ispirazione anche di una serie televisiva americana, dal grande successo anche in Italia, dal titolo Catfishing, nata proprio dall'esperienza dello stesso conduttore della serie, Niv Shulman, che scoprì che la donna con cui aveva una relazione online non era stata onesta nel descriversi. Questa, di storia, vede protagonisti una 53enne del Basso Salento ed un uomo del Piemonte, che in realtà non è un uomo ma una donna, anche lei di origini pugliesi. La vicenda inizia nel 2014 e prosegue fino al 2016. Lei, la donna salentina, inizia a chattare sui social con quello che crede essere un uomo, Valentino, un fantomatico commissario di polizia. Si invaghisce di lui ed iniziano una relazione online, sentendosi anche al telefono quotidianamente. Ma quando l'innamorata, ingannata, chiede spiegazioni al suo lui per lo strano timbro di voce, si giustifica raccontando di aver subito un'operazione alla gola a causa di una malattia. Insomma, dopo due anni comincia ad avere qualche sospetto e inizia a fare delle ricerche, tra l'altro anche rivolgendosi ad una cartomante con l'obiettivo di arrivare al bandolo della matassa. Grazie proprio ai social riesce a scoprire che le foto del suo Valentino appartenevano ad un certo Emanuele. E a questo punto, che comprende di essere stata truffata ed illusa, decide così di denunciare il falso fidanzato che trascina in tribunale. In queste ore la condanna a sei mesi di reclusione per sostituzione di persona finalizzata al soddisfacimento sessuale. Le forze dell'ordine avvertono ed invitano alla cautela, perché spesso queste situazioni possono rivelarsi piene di insidie.